Ormai mi sono dato i biscotti, infatti oggi ti propongo gli occhi di bue, dei deliziosi frullini farciti con marmellata come nel mio caso, o con della crema alle nocciole. Prepararli è semplicissimo, ti basta rompere le uova in una ciotola, unirle con lo zucchero, preferibilmente a velo che io non avevo, l'olio che va a sostituire il burro, lievito e farina. Amalgama il tutto dapprima con un cucchiaio e poi impasta con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Da stendere tra due fogli di carta forno con l'aiuto del mattarello. Dai la forma tipica a cerchio tramite una tazzina o un coppapasta e fora l'altra metà con l'aiuto di un tappo. Dovrai ottenere quindi pari basi forate e nonne. Cuoci nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti ed infine spolverizza di zucchero a velo i coperchi e assembla con la marmellata o farcitura a piacere. E buona colazione o merenda! Questi biscottini li vedo perfetti con il tè. Spero che questa ricetta ti sia piaciuta! A presto!